Siamo venuti fino in Giappone per intervistare Alessandro Maestri, protagonista nella MPB. Sì, grazie Riccardo che hai potuto prendere un po' di tempo per intervistare. È una bella esperienza quella che sto passando qua in Giappone, molto diversa dall'Europa e dall'America, però se lo divertisci, sta andando bene, non posso lamentare. Vogliamo dare un in bocca al lupo ai ragazzi che sono a Rotla, che stanno giocando la partita contro l'Olanda, molto importante. Non lo so, però dai, forse azzurri.